Ciao a tutti i nesini, siamo qui in un nuovo video. In questo video andremo a vedere insieme nuove anteprime che sono state rilasciate in questo periodo. Probabilmente alcuni di voi le avranno viste, alcune di queste perché girano molto su Instagram e Facebook, però ve le faccio vedere anche qua su YouTube. Ci sono un sacco di novità in ambito Lil, LOL e Pets. Quindi direi subito di incominciare e se vi piacciono questi video lasciatemi un bel like e scrivetemi nei commenti tutto quello che pensate. Iniziamo dalle Lil. Allora per quanto riguarda le Lil, queste sono le ball che troverete, sono già uscite, ho visto insomma che in Svizzera oppure in Germania sono già uscite e in alcuni negozi potete già preordinarle. Queste qua appunto sono fatte così, sono fucsia con questi pallini e hanno dei messaggi segreti su ogni singolo strato. All'interno della ball praticamente voi andrete a trovare una volta aperta quella lente di ingrandimento che sarà in carta e plastica e passandola sui vari strati di plastica delle ball troverete i vari indizi sparsi che vi potranno indicare chi potrebbe essere la LOL che troverete ovviamente. E questa la trovo un'idea davvero molto molto carina. Ora vi faccio vedere un attimo la checklist, ve l'avevo già illustrata la scorsa volta, ma questa è la checklist completa della prima serie. Dietro non troverete la checklist delle LOL come avviene solitamente, ma troverete un altro certificato che vedremo dopo anche sui pets e in cui potete praticamente scrivere delle cose che avete trovato tra gli indizi insomma sulla ball, sulla sfera. E queste appunto sono tutte le LOL che comprende la prima wave della quarta serie. Le trovo davvero tutte molto molto carine e mi piace tantissimo lo storybook club, mi piace tantissimo il pop club e niente, sono tutti molto molto belli. E ora andremo a vedere alcune delle immagini di tutte queste LOL che sono uscite appunto su internet. Iniziamo con la prima manciata di LOL che sono queste qua. Ovviamente ditemi nei commenti quelle che vi piacciono di più, trovo molto molto carine tutte quante, mi piace tantissimo della prima la scritta caution, praticamente come se fosse sulla scena del crimine. La seconda adoro, adoro gli occhiali, sono stupendi quei Ray-Ban. La terza mi piace tantissimo la borsa con il cervello e mi piacciono tantissimo anche le altre, soprattutto quella con i capelli dorati è molto molto carina. Le altre le andremo a vedere meglio tra poco. Ecco qui un'altra, lei è molto carina, ha un cappellino delizioso e questo vedete qui davanti è uno degli indizi appunto che potrete vedere con la vostra lente rossa. Sullo sfondo ci sono altre due che vedremo meglio dopo. Lei mi piace tantissimo e devo dire che è una di quelle che penso vorrei trovare e appunto mi piace tantissimo il suo zainetto a piede pull e anche la tazzina con il fiocco di neve è veramente adorabile. Poi ce n'è un'altra, questa qua è più spooky diciamo, praticamente ha una ragnatela fucsia sulla borsetta nera e anche lei farà un cambio colore molto particolare che ora vi faccio vedere e per il resto è abbastanza semplice. La pettinatura è simile a quella di Show Baby però appunto è un pochino più horror tra virgolette. Questo invece è il suo cambio colore appunto. Vedete che le viene una specie di costumino, possiamo dire una specie di reggipetto, i capelli le diventano neri e le appaiono delle calze a rete fucsia. E quindi vabbè è molto carina anche questa. Poi ve ne faccio vedere un altro po' che sono queste qua. Allora abbiamo la prima molto carini gli occhiali secondo me, la seconda che vedremo meglio dopo, vedete ha un cubo di rubik come borsetta perché testimonia agli anni 80. Poi abbiamo una glitterata, abbiamo l'uomino di latta che mi piace tantissimo e poi abbiamo quella con la borsetta banana che è adorabile. Di queste invece vedete abbiamo Lux con il cappello dorato, poi questa qua in mezzo non mi fa impazzire in verità, ha i capelli un po' tipo riptide con una corona enorme e poi abbiamo quest'altra, di questa mi piace la borsetta ma ce l'ho già perché è uguale a quella che trovate nella big ball. Lei invece è molto roar, praticamente è molto, cioè diciamo grintosa con questa borsa maculata e gli occhiali cherry, diciamo color rosso acceso, quindi è abbastanza carina anche lei e vedete lì a fianco ha questa lente che è quella che troverete appunto all'interno delle ball. Poi abbiamo lei che appunto vi ho già detto prima, vi ho già fatto vedere prima, ha questi capelli dorati e anche i pattini, mi piace parecchio e appunto sulla borsa c'è scritto Lil Buji e mi piace parecchio anche lei. Poi abbiamo un altro po', queste sono state deboxate su un gruppo, su un gruppo Facebook di LOL che sono queste qua, vedete, ve l'ho già fatta vedere prima, però queste sono proprio state deboxate da una ragazza insomma che non mi ricordo se l'ha prese tipo in Germania o qualcosa del genere, comunque eccole qua, queste sono quelle già uscite insomma. Poi abbiamo lei che mi piace tantissimo e questa è del, diciamo, credo fosse il Pop Art Club, molto molto bella, questa pure penso di volerla, mi piace parecchio, ditemi se vi piace. Poi abbiamo lei, questa ve l'ho già fatta vedere prima, comunque ve le faccio vedere meglio ecco giusto per farvi avere un'idea migliore di come sono da vicino, la borsetta è molto carina pure questa e non so se quello lì a fianco è un ciarmino tipo con, non so se appartiene a lei ecco con il fiocco di neve. Poi abbiamo lei che è una, una rara, però devo dire non mi fa impazzire, non ha nulla di particolare, comunque vedete questa nuova pettinatura con questa coda diciamo di cavallo, credo sia, con tipo rasta, non so, però la pettinatura non mi dispiace, però la doll è un pochino scarna. Questa è un'altra immagine del cambio colore di queste due lol, mi piace tantissimo la borsa banana, quella mi piace veramente tanto e gli occhiali giallo acceso mi piacciono pure tantissimo. Poi vi faccio vedere meglio appunto la borsetta a cubo di Rubik, vedete ha dei lacci di scarpe a fianco, quindi c'è un po' diciamo ci fa pensare un po' agli anni 80 e 90, io ci giocavo sempre col cubo di Rubik, anche se non sono mai stata in grado di capire come si fa, però vabbè, ditemi se voi invece lo sapete fare. E ecco qua vediamo da davanti appunto la sua borsetta, è veramente carina e si addice anche ai suoi capelli con le mesh fucsia. Pure lei mi piace molto, soprattutto il cambio colore a quadri, sembra un po' quello delle scarpe delle Vans, non so se ce l'avete, io ce l'avevo quando ero più piccola, mi piace parecchio. Ora passiamo a farvi vedere l'anteprima della confezione delle lol serie 4, queste sono quelle grandi, vedete, sembra un salame, sembra un po' una diciamo confezione di galbanino e questo avrà, se non sbaglio, 15 sorprese, quindi 15 strati, perciò immagino costerà ancora di più da noi, quindi costerà tantissimo e anche qua c'ha questa lente di ingrandimento. Queste invece sono le nuove Big Surprise Ball, quelle grandi, che avranno all'interno due o tre pet, e si chiama infatti Biggy Pets, anche qua vedete ha gli occhiali rossi per fare l'indagine su chi potrebbe esserci all'interno e ce ne sono di diverse varianti, vedete c'è quella del coniglietto e poi dopo vi faccio vedere anche quella del criceto, poi ci sono anche quella del cane e quella del gatto, se non sbaglio, quindi insomma potete trovare due o tre pets, se siete più fortunati, ecco questa è quella del cricetino e ha il modello diverso di occhiali, vedete potete trovare degli accessori e poi appunto due o tre pets, a seconda di quanto siete, tra virgolette, fortunati, e non so, ecco se vi può piacere ditemelo qui sotto nei commenti. Ora vi faccio vedere di nuovo la checklist degli animali, dei pets, vedete questa si vede un pochino meglio rispetto a quella che vi ho fatto vedere l'altra volta, i topolini pure si vedono meglio, sono molto molto carini e quello giù, il riccio, credo sia di Punk Boy, credo sia di Punk Boy e quindi insomma se vi piace fatemelo sapere e sono davvero davvero tutti molto carini, ora ve la faccio vedere un attimo per bene così insomma ve la vedete con calma e vedete quello di Angel è fuzzy, quindi è peluscioso diciamo, continuo a preferire quelli di Dawn e Dusk, comunque mi piacciono molto e il cavallo insomma di Show Baby, questo è l'indizio, come lo vedrete con il detector, con la lente rossa, vedete se passate la lente davanti all'indizio vi fa vedere i disegni dell'indizio appunto e quindi questo ci impedirà di torciare le ball, tra virgolette, perché alcuni le torciano, no? e quindi in questo modo non potranno vederlo da fuori questo qua invece è il retro della checklist, vedete? e qui praticamente è come un certificato di adozione in cui voi potete scrivere le cose che trovate sugli incarti insomma della ball tramite la vostra lente rossa insomma un'altra cosa particolare è che i pets faranno le bolle dal sederino quindi se voi ci immergete, ci mettete questo liquido che è sapone nella vaschetta e ci immergete il vostro pet potrà fare le bolle dal sederino ora vi faccio vedere come le fa perché hanno immerso qui la puzzola questo ovviamente viene dal video ufficiale del LOL Surprise americano quindi insomma è questo qua, probabilmente l'avrete già visto vedete fanno le bolle, eccolo qua, dal sederino e niente, è divertente, hanno aggiunto una funzione in più carina un'altra funzione in più è che la sabbietta cambia colore con i raggi UV quindi appunto o le mettete al sole oppure con la torcia UV di quella che si usa magari per far seccare la resina UV eccola qua quindi praticamente in questo caso quella della puzzola diventa violetto e bianco vi faccio vedere qualche immagine dei nuovi pets eccoli qua, vedete, ci sono i topolini che sono adorabili poi c'è quello di Dusk che mi piace tanto gli altri, vabbè, vi li avevo già fatti vedere e poi c'è questo hedgehog, quindi questo riccio questo riccio che dovrebbe essere di Punk Boy se non sbaglio questi sono alcuni degli altri vedete anche gli artwork dietro, ecco i topolini che si vedono meglio e poi abbiamo i vari pets tra cui c'è anche quello di T-shirt's pet mi piace molto e niente, sono abbastanza carini e questo invece vi fa vedere appunto quello di Angel molto molto carino e appunto molti di voi mi hanno detto che è o un gufo o un colombo quindi ora staremo a vedere comunque mi piace, è tutto fasi, tutto peluscioso diciamo e questi ve li avevo già fatti vedere ma li hanno fatti uscire con gli accessori quindi vedete ha le scarpe bianche e la paletta dorata e poi questi altri che sono, questi qui pure, usciti con i loro accessori per esempio appunto c'è la Cheer Captain il pet di Cheer Captain con questo tipo body e questo è tutto spero che vi sia piaciuto il video che vi sia stato utile ditemi tutto quello che pensate della serie 4 delle 15 sorprese del fatto che potrebbe costare di più dei pets con queste nuove funzioni come le bolle, come il cambio colore della sabbietta e delle lil che avete visto e ovviamente delle big ball dei pets insomma fatemi sapere tutto quello che pensate nei commenti lasciatemi un like iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video partecipate al giveaway e a presto ciao!